Dopo il primo caso di West Nile nell'uomo scoperto dagli ambulatori della microbiologia di Padova sui campioni di sangue di un 66enne veronese colpito da febbre alta, cresce la tensione in Veneto verso la diffusione del virus. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, a partire dal 13 luglio, ha registrato sei casi di positività in zanzare nelle province di Verona, Rovigo, Padova e Venezia. Per gli esperti dell'Istituto di Legnaro si tratta di un caso da manuale, dato che l'infezione nell'uomo si manifesta generalmente due settimane dopo le prime positività nelle zanzare. Sono state così posizionate 85 trappole distribuite tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono state catturate 112.760 zanzare di 16 specie diverse, rappresentate prevalentemente dalla specie Culex pipiens, la zanzara comune responsabile della trasmissione del virus West Nile. Nei laboratori dell'Istituto sono stati esaminati 1.477 pool di zanzare, di cui sei sono risultati positivi per West Nile. Si tratta dello 0,4%. La sorveglianza veterinaria coinvolge anche uccelli ed equini. La circolazione del virus al momento risulta molto meno intensa rispetto a quella del 2022, quando nella nostra regione si verificarono oltre 500 casi di West Nile nell'uomo.